Fire Podcast numero 2, noi continuiamo questi 120 giorni per veramente accogliere questo fuoco di Pentecoste permanente, nuova, vivere una vita nuova e soprannaturale nello Spirito Santo. Bene, oggi la parola è Isaia 43,1, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. È come se l'ebraico in effetti ci dice che il nostro nome significa tu sei mio, tu mi appartieni. Questo ci dice che Dio ci chiama, come ha chiamato Abramo, perché lui ci ha creato, noi non siamo nati per caso. Abbiamo un fine molto prezioso, ti trovi in una crisi, ti trovi in un momento in cui non capisci cosa devi fare, in cui magari hai bisogno di qualcosa di nuovo, in cui vedi che nella tua vita ripeti sempre le stesse attitudini, sempre gli stessi meccanismi e vorresti cambiare. ascolta questa parola, Dio ti chiama. Ti chiama per nome, questo significa che ti dice Lui chi sei, il tuo essere, la tua dignità e tu appartieni a Lui. Allora andate a riprendere, a riscrivere, a prendere la memoria Isaia 43,1 per poter ricevere la chiamata di Dio, perché Dio ti sta chiamando. Dio ti sta chiamando proprio oggi, nel 2023, in questo secolo, in questo millennio e vuole fare di te una meraviglia perché tu vivi una vita da sogno o meglio, di realizzare i tuoi sogni vivendo. Quindi non esitare a iscriverti al seminario di vita soprannaturale nello spirito per poter riuscire a ricevere questo battesimo nello spirito, per ricevere veramente questo cuoco da condividere a tutti. Visita il nostro sito emma-com.center per poter riuscire a fare questa iscrizione e vi do appuntamento a domani con Fire Podcast. Ciao!